Ci sono tante cose che ancora non sapete di me, quindi partiamo da quel che non sopporto. Tutti voi mi vedete sempre sorridente, allegra, solare, bla 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 bla, ma c'è solo un momento della giornata in cui proprio non riesco ad esserlo. La mattina. E se c'è una cosa che proprio non riesco a sopportare, sono le persone... Ehm, sì, proprio le persone. In particolar modo, quelle che mi parlano, quelle che mi provano ad abbracciare o anche solo toccare, ma soprattutto quelle che mi rubano i ringo. E non mi ringo, eh? Ogni mattino ho bisogno di almeno due ore per riprendermi dal mondo dei sogni e lasciare purtroppo le braccia di Morfeo. Poi torno a Lailies che conoscete. Nonostante ciò...